Appassionati di audio, oggi facciamo una vera e propria verticale delle cuffie. Se state cercando un regalo per la stagione natalizia, un paio di cuffie di ottima qualità potrebbe essere una soluzione perfetta, sempre che vogliate un regalo prestigioso, perché oggi sto per presentarvi tre prodotti di tre fasce di prezzo che comunque richiedono un discreto investimento, partendo da Sony 650, un modello molto accattivante soprattutto per le colorazioni e per il prezzo che è intorno ai 100 euro quando le comprate online. Io quando faccio riferimento ai prezzi, soprattutto mi riferisco a ciò che trovate su internet, perché oggi è difficilissimo riuscire a dare un'indicazione molto precisa sui prezzi di un apparato elettronico. Le Sony XB650BT sono cuffie con un'ottima carica della batteria, arrivano sino a 15 ore, un buon livello anche di qualità sonora, fanno parte della sezione extra bass delle cuffie di Sony e quindi dedicata soprattutto a coloro che vogliono un basso particolarmente rinforzato, un basso che spinge particolarmente. Sono molto leggeri da indossare, funzionano molto bene, hanno la possibilità di essere abbinate anche ad un'applicazione che però non aggiunge molto alla loro funzionalità. Possono essere collegate attraverso il Bluetooth, nel caso di Sony XB650 non esiste invece la possibilità di collegare direttamente un cavetto, quindi in pratica se sono scariche non le potete utilizzare. La nostra verticale passa attraverso un prodotto nuovissimo, si chiamano Plantronics Backbit Pro 2 e queste sono probabilmente tra le migliori cuffie che mi sia capitato di provare negli ultimi anni. Si possono collegare attraverso il Bluetooth oppure attraverso il telefonino e possono essere utilizzate anche per le conversazioni telefoniche perché sono dotate di un microfono e proprio questa è una delle caratteristiche di queste cuffie che hanno o la riduzione del rumore per cui potete tagliare fuori tutto il rumore che sta intorno a voi oppure una soluzione chiamata Open Mic, molto utile soprattutto se state girando magari in città perché viene attivato il microfono incorporato nelle cuffie e c'è modo di sentire i rumori intorno a voi scansando quindi eventuali pericoli dati soprattutto dai mezzi in movimento. E infine l'ultimo prodotto di cui vi parlo e lo faccio per una questione prettamente qualitativa è il modello Zik 3 di Parrot. Queste sono in circolazione già da un po' di tempo e se le Plantronics costano intorno ai 200 euro oggi le Zik 3 le trovate online anche a 150 euro. Il suono è superlativo, si possono collegare attraverso il cavo oppure con la connessione Bluetooth quando la batteria è carica ma soprattutto hanno un'applicazione abbinata a queste cuffie con cui potete fare delle regolazioni audio davvero perfette. E non solo, grazie all'applicazione potete scaricare anche i settaggi audio che sono stati realizzati da personaggi famosi. Insomma, scegliete voi quanto volete spendere per acquistare una di queste cuffie qualunque voi decidiate di acquistare avrete comunque un prodotto strepitoso alle vostre orecchie. Sono tutte promosse da Mr. Gadget.